Anche l'arte cura la vita e scende in campo con Fabbrica del Sorriso per combattere i tumori pediatrici. La mostra Piero della Francesca, indagine sul mito, contribuirà a questa grande iniziativa. Le opere di Piero della Francesca e degli artisti che si sono ispirati a lui. Cinque secoli di capolavori di incomparabile bellezza. In uno straordinario percorso espositivo. A Forlì, presso i musei San Domenico, fino al 26 giugno 2016. Piero della Francesca, indagine sul mito. Grazie a tutti.